Un nuovo weekend fortemente condizionato dal maltempo e dalle problematiche del terremoto. Riduce a sole due partite il quadro abruzzese della Serie D. L'Aquila Riete, ad esempio, il big match del Gironi G, non si giocherà, anche perché i locali dello stadio Gran Sasso d'Italia, Itola Concia, del capologo abruzzese, sono stati messi a disposizione dal Comune per quei cittadini che avessero voluto trascorrere le notti fuori da casa per paura delle scosse. Si giocherà il 1 febbraio. L'8 febbraio, invece, saranno recuperate Agnonese, Pineto e Matelica San Nicolò. In questi casi, le abbondanti nevicate hanno spinto le società ad accordarsi in anticipo per il rinvio delle gare. In particolare per il San Nicolò si allunga il riposo forzato dopo il rinvio della gara di fermo e il riposo dovuto alla partita col Chieti. Al resto, poi, hanno pensato i problemi economici del Foligno, che dopo gli 11 gol subiti all'Aquila, con una formazione imbottita di ragazzi, sembrava stesse operando per accaparrarsi dei rinforzi, e invece ha alzato bandiera bianca. Con una nota, l'Avezzano Calcio ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione dalla LND dell'annullamento della partita per ordine della pubblica autorità al cospetto del Foligno Calcio. In settimana, il giudice sportivo assegnarà lo 0-3 a tavolino ai marzicani. Così, l'unica abruzzese in campo sarà Lavastese, che giocherà contro il Monticelli, sul campo neutro di Monte San Giusto. Il pari col San Marino ha lasciato la mare in bocca e qualche mugugno nella tifoseria aragonese. Il tecnico Colavitto medita riscatto e potrà contare sul bomber Prisco, che ha scontato la sua lunga squalifica ed è pronto a riprendere la sua personale marcia a suon di gol.